Alla volo, Perugia supera anche Trento e questa è la settima vittoria consecutiva in campionato. Antonello Brughini. E' spettacolo! Avete presente la nazionale di calcio di Giampiero Ventura? La Sir Colna de Perugia è esattamente il contrario. Squadra che lotta, che azzanna l'avversario, lo rincorre e lo mette alle corde. Squadra che soffre e che vuole sempre arrivare prima. Era abbastanza complicata la pratica Trento, il primo vero test superato a pieni voti. Ancora 3-0 con il secondo e terzo set vinti in rimonta. Dodicesimo successo stagionale consecutivo, primo posto in classifica, con tre lunghezze di vantaggio su Modena. Una partita magari non perfetta dal punto di vista numerico, perché magari qualcuno ha giocato un po' meno bene delle altre volte, ma è stata la partita perfetta perché volevamo vincere con Trento. Lo volevamo fare 3-0 e ci siamo riusciti. Perfetta a muro, sempre efficace al servizio, sontuosa in ricezione con Massimo Colaci, miglior giocatore della partita. Per i 4.000 del Palevangelisti, un'altra serata indimenticabile. Alla fine della partita penso che Aaron Russell abbia fatto 2-3 giocate insieme a Colaci di altissimo, altissimo, altissimo livello. Grande nota positiva è l'ingresso di Dora in battuta che ha fatto 3-4, adesso non mi ricordo. Quindi le note positive sono molte. C'era anche Blengini, il CT della Nazionale Italiana, che si è divertito e soprattutto ha visto una pallavolo di elevata qualità.